Il festival dell'altra parte del mare è un festival che è giunto alla sua quinta edizione organizzato dall'associazione Tinerandia e dalla libreria Sirano con il sostegno del comune di Alghero della fondazione Alghero e della fondazione Tresani. Direi che passo direttamente la parola a Lorenzo, grazie ancora, buona serata e buona volta a tutti. Buonasera, buonasera anche da parte mia, grazie a Romano che ci assiste tecnicamente ormai ogni volta che veniamo a Alghero e a Maria Luisa e alla libreria Sirano per questo invito. Grazie veramente per avermi dato l'occasione perché siamo qui per presentare il mio nuovo libro che finalmente sono riuscito a far riuscire e grazie a voi per essere qua. È un'enorme responsabilità per me, lo dicevo adesso mentre chiacchieravo con qualche amico che è venuto a trovarci. La vostra presenza qui è una grossa responsabilità. Sono emozionato e felice che stiate qua. Nell'organizzare questo evento ho chiesto che fosse organizzato in un posto dove le persone venissero a costa. Insomma, non di passaggio ecco, non un posto dove un turista si affaccia ed entra perché ci tenevo che fosse una serata dedicata a fare qualche riflessione sull'educazione ma per persone che avevano deciso di passare un'ora qui in compagnia. E sono qui insomma con un nuovo libro quindi anche con grande emozione perché insomma scrivere un libro poi, visto le aspettative che adesso i miei libri hanno, è sempre una responsabilità maggiore. E quindi grazie, grazie per essere qua. Adesso, quei ringraziamenti, chi mi conosce lo sa, vado sempre cauto perché ultimamente ho ringraziato una coppia che era venuta ad ascoltarmi e gli ho detto grazie per essere venuti e il padre mi ha detto, io sono venuto anche l'anno scorso, gli ho detto beh, grazie per essere tornato. Mi ha detto grazie un cavolo, non è servito a nulla. Cosa c'è? Ci hanno bocciato il mio figlio anche quest'anno, però no, è colpa mia. Dice ho comprato anche altri, ho comprato anche tre libri, gli ho detto veramente ne ho scritto altri tre quindi comprali, però non ci torno più in quel paese perché mi aspetta, tanto il figlio lo riboccia, non sono sicuro. Io non so con quali aspettative siate venuti e spero semplicemente quello di passare un'ora chiacchierando sull'educazione e niente di più. Io sono felice di essere qua, ripeto, per presentare il mio ultimo libro e ringrazio la libreria Sirano per l'invito perché insomma è un paio di anni che ci inseguiamo e poi non era mai stato possibile farlo. in questo libro è per me un libro un po' della maturità, adesso dico della maturità per non dire insomma di un nuovo ciclo di vita e per me è importante in questo senso. Alla fine di una mia conferenza, un anno e mezzo fa circa, mi si avvicinò una collega, una giovanissima collega di 25 anni che mi disse complimenti dottor Brian, io vorrei tanto essere come lei, diventare come lei. e gli ho detto guarda aspetta 25 anni di lavoro, quelli che ho fatto io, poi diventerai anche più brava di me, nel senso che oggi hanno una preparazione che noi non avevamo, gli ho detto insomma imparerai col tempo, diventerai più brava di me a fare questo mestiere e lei mi ha detto no ma non intendo brava come lei come conferenziere o relatore, intendo brava brava come lei come educatrice, come lei ci ha detto come educatore e io gli ho detto ma tu cosa ne sai di come sono come educatore? e lei ha detto bene, ha parlato tutta la sera e allora io ci tengo ultimamente a togliere questo equivoco, io non sono come educatore come dico che bisognerebbe essere, cioè questo è impossibile, nessuno come educatore è o deve pensare di essere come dice che vorrebbe essere, noi al massimo ci proviamo, al massimo abbiamo deciso una buona strada, un buon percorso ma poi la quotidianità è fatta di tante altre cose, in questo libro per la prima volta rispondo alla domanda chi è un buon genitore, non ho mai voluto rispondere e dico che anzitutto un buon genitore è chissà che buona può essere la strada e non la quotidianità, chissà che quotidiana me, oggi in spiaggia per esempio, io non c'ero in spiaggia con voi oggi ma mi sembra di vedere, perché non è come arrivi, tu parti bene, amore siamo qui per rilassarci, amore è l'arrivo che ti frega, quando poi, no? Non è che non sai come vorresti essere, torna tuo figlio da scuola, torna tuo figlio da scuola, ha preso un brutto voto, tu però sei stata alla conferenza di Brian, quindi no, ha preso un brutto voto e parte del percorso educativo, gli serve, perché inciampare gli serve e parti bene e quindi dici va bene, rimedierai e lui, e infatti esco, e allora lì la frase famosa, altro che Brian, è immediatamente sì, nel senso, chi è il buon genitore? Secondo me il buon genitore è chi ha desiderio, faccio la mia figura, mi si vede insomma a minimo indispensabile, dicevo il buon genitore è chi ha desiderio di cura verso i bambini, ma non solo il buon genitore, il buon insegnante, il buon educatore è anzitutto chi ha desiderio di cura, poi ci ho dedicato un capitolo al desiderio, desiderio di cura non è scontato averlo, una cosa che negli anni ho imparato è che non basta avere procreato per avere diritto al titolo di padre e di madre, e anche che non è necessario avere procreato per meritarci quel titolo, anzitutto bisogna avere desiderio di cura, e non è scontato averlo, ripeto, non è scontato che tu abbia desiderio di cura verso quel bambino, oltre al desiderio di cura però non basta, perché oltre al desiderio devi assumerti la responsabilità adulta della cura, devi accettare di essere diventato adulto, e non è scontato neanche questo, il tuo può essere un desiderio infantile, il buon genitore quindi è chi ha desiderio, chi si assume la responsabilità adulta, e il terzo è chi cerca la misura della cura, desiderio, responsabilità e misura. Mi sono reso conto alla fine di questo capitolo, del primo capitolo del libro, che avevo parlato di misura già dieci volte, e in tutto il libro non faccio altro che parlare di misura. Pensandoci ho riflettuto, e ho pensato che la misura in educazione è un po' come le ricette di mia nonna, mia nonna, una delle mie due nonne era emiliana, e faceva una meravigliosa pasta sfoglia tirata con maccarello grandissima, e quando la mia sorella e le mie cugine sono cresciute, mi hanno chiesto, nonna ma ce la dai la ricetta della pasta all'uovo, c'è un problema di luce che ci distrae, la spiene, si vede? Sì, sì, ok. Dicevo, mia nonna faceva la pasta all'uovo, quando le mie cugine e mia sorella sono cresciute gli hanno chiesto, nonna, ce la dai la ricetta della pasta all'uovo? Sì, sì, allora in un chilo di farina quante uova dobbiamo mettere? E nonna gli aveva detto, intanto giusto. E allora gli ha detto, cioè, è quelle che ci vogliono. E allora una mia cugina scherzando gli ha detto, non di più, mi ha detto, no, nonna ha detto, non di più, che poi non viene. E allora mi viene da pensare che l'educazione è un po' come l'impasto di mia nonna. Mia nonna diceva che per fare bene un impasto dipendeva dall'umidità, dalle uova, dalla farina. E poi nel libro non l'ho messo, ma me l'ha ricordato una mia cugina quando ha letto il libro. Mi ha detto e poi diceva, dipende dal calore che ho nelle mani e dal calore che ho nel cuore. Non si può dare la ricetta, così come non può esserci la ricetta dell'educazione, non perché non ci siano delle cose giuste o sbagliate da fare, ma semplicemente perché ogni momento è diverso. Educare un bambino è semplicemente prendersi cura della vita di un'altra persona. Ma qual è la difficoltà? La difficoltà è che mentre tu ti prendi cura della sua vita, la tua vita scorre e non sempre scorre nella direzione che avevi pensato, creduto o sperato. Ci sono cicli di vita normali, cose che accadono, che ti aspetti e ci sono anche tutte le altre cose che ti accadono e che non ti aspetti. Educare è complicato per questo, perché la vita ti cambia costantemente la misura. Tu pensi di averla trovata, la misura, dici, beh, mi sembra che ci siamo. Poi a tuo figlio arriva l'adolescenza, l'hai sempre portato a scuola con la macchina, dal giorno dopo entri in garage e ti dice, fammi scendere, ma siamo ancora in garage e mi vedono con te. È cambiato tutto, ti è cambiato il mondo, ti è cambiato il mondo in un giorno, devi costantemente ricercare la misura. Passi da averlo sempre attaccato che ti tira i pantaloni a lui dietro la porta di una camera e tu fuori a bussare. Educare è difficile perché la vita ci cambia costantemente il metodo, non solo loro e anche noi. Un'insegnante meravigliosa mi ha detto, dottore, io ho iniziato a insegnare che avevo 25 anni, arrivo in questo paese, non conoscevo nessuno, il ruolo, la cattedra, inizio a insegnare, è giovanissima e conosco un poliziotto che faceva servizio poco distante ma viveva nel paese. Bel ragazzo, bello, ci innamoriamo, dottore, un anno bellissimo, ogni mattina prima di andare a scuola facevo l'amore, poi andavo a scuola rilassata con i bambini e poi tornavo da scuola, mangiavamo, rifacevamo l'amore, ci riposavamo, preparavo la lezione, bello, bello insegnare, dottore, bello. Lo sa che l'ho sposato, ci ho fatto tre figli, questo è il mio ultimo esame, il mio ultimo, scusate, anno di insegnamento, sono in menopausa. Fra sei mesi il mio figlio più grande è nato con quell'uomo, mi renderà nonno. Cosa dice? Che è cambiato il mio modo di insegnare. Sono un po' cambiata. Se non avessi cercato, mi diceva questo insegnante, per tutta la mia vita di ritrovare la misura in base alla donna che stavo diventando, sarei sicuramente stata una pessima insegnante. In questo senso non c'è la ricetta. Ripeto, non è che non c'è il giusto e lo sbagliato in educazione. Ma la ricetta non ci può essere perché la vita ti cambia e lo cambia. È come ballare una musica con l'orchestra che cambia costantemente ritmo e tempo. E danza addirittura. È per questo che educare è complesso. Però, secondo me, ci sono delle cose molto chiare che i bambini fanno. Per esempio, nella copertina del libro metto una frase. Dico che ogni figlio, il libro si titola Dato al mondo, Dato al mondo, andiamo avanti? Il bambino Dato al mondo, giusto? Cioè lo dai, lo dai, no? Dato in senso di restituire al mondo anche, no? Lo dai al mondo, nel senso si intende come lo partorisci, ma allo stesso tempo lo dai. È un dono che fai al mondo. E nella copertina scrivo, ogni figlio porta in sé delle domande. La nostra stessa vita è la risposta a queste domande. Ogni figlio, da prima di nascere, da prima ancora che tu hai l'attesa biologica, o l'attesa psicologica se sei un genitore adottivo, da prima ancora che il bambino arrivi, fa già delle domande e le fa per tutto il tempo che state insieme. Queste domande io le ho racchiuse grosso modo in cinque passaggi. La prima domanda che il bambino fa... No, aspetta, un'altra cosa. Perché mi succedeva una cosa all'inizio di carriera. Quando dicevo ai genitori, no? Che... Quando facevo le consulenze, mi ero reso conto che i genitori spesso mi dicevano, va bene, ma sono stato... Io con quel bambino sono stato sfortunato, col terzo figlio sono stato sfortunato, o col primo, col secondo sono stato fortunato. Dico la verità, all'inizio carriera io pensavo che fosse un modo per difendersi. Cioè che la fortuna e la sfortuna fosse un modo per difendere se stessi. Veniva un genitore che per esempio aveva un figlio con problemi di tossicodipendenza e mi dicevano, no, vabbè, ma le porto un mio figlio, lo vede, lo incontra, lo sistema. Io dicevo, no, venite voi. Mi dicevano, ma cosa c'entro io? È lui il problema. E quando dicevo, no, guardi che... Non che sia lei il problema, ma io ho bisogno di vedere lei, mi diceva, ma no, ma semplicemente si riparavano dietro la fortuna o la sfortuna. In realtà ho capito che realmente i genitori alle volte non comprendevano, questo da tanti anni, quale fosse il loro ruolo nel carattere del figlio. L'ho capito una sera che ho incontrato un ragazzo di 16 anni sulla sedia a rotelle da quando è nato, una grave patologia che ne comprometteva non solo la mobilità, ma anche una vita apparentemente normale. Beh, questo ragazzo ha un entusiasmo, una voglia di vivere, una cosa stupendo. Conosco questo ragazzo, incontro i genitori, faccio i complimenti ai genitori per il ragazzo e mi dicono, ma no, noi siamo solo stati fortunati e è lui che è fantastico. Allora, la seconda parte della frase la condivido, lui è fantastico, ma la fortuna e la sfortuna in educazione non c'entrano nulla. Ci possono essere condizioni fortunate o condizioni sfortunate in cui tu sei chiamato ad educare, questo sì. Io faccio un lavoro purtroppo molto carico di ansia, di difficoltà al microsistemico di Cagliari con persone che hanno bambini con gravi patologie o che purtroppo hanno perso un bambino o devono educare altri bambini. Certo che non è stata una condizione fortunata nella quale stai educando, ma in quelle condizioni conti tu, tu conti. Dice, è lui che è tranquillo. Cioè la questione vera è il carattere dei bambini, ma anche il nostro. È genetico? O quello che facciamo tutti i giorni come genitori, come insegnanti, come educatori? Conta. Cioè tuo figlio è così perché lui è così? Il primo ubbidiente, più posato, il secondo più... Sono così loro? O conta quello che fai tu. Perché questa è la chiave dell'educazione. La teoria che porto avanti in questo libro, la teoria che io condivido e che porto in questo libro è che quello che noi facciamo conta tantissimo. Adesso se io dico, è un esercizio che intanto faccio, adesso cosa facciamo? Ho già dato a Romano dei braccialetti. Adesso li darà cinque persone del pubblico. Le cinque persone, io non so chi Romano le darà, le cinque persone che verranno scelte dovranno alzarsi, venire qua e raccontare qualcosa di personale. Adesso qualcuno di voi sta pensando speriamo che muoio prima. Se muoio prima non mi tocca alzarmi e qualcuno sta pensando no, lo prendo io il braccialetto. Lo prendo io che racconto di quella volta che da bambino mio fratello mi ha spaccato la testa. Che cos'è questo? Noi diciamo è carattere, giusto? ma la domanda è quanto nel tuo panico di alzarsi, adesso qualcuno come solo come ha pensato ha detto oddio non ci dovevo venire, sono venuto. Panico, non dico tensione, panico piuttosto di alzarsi. La domanda è quanto c'entra non solo i tuoi genitori, permettetemi di semplificare un po' non dover fare tutto l'elenco ogni volta, ma pensate ogni volta a tutti gli educatori che hai avuto. Quanto hanno influito questi? Nel reading che presenteremo a ottobre nel festival della famiglia, avremo condonato cancetta come facciamo tutti gli anni e presenteremo il reading su Pinocchio, parlo moltissimo della figura del grillo parlante e dico che Pinocchio all'inizio del libro fa una cosa già come padre Geppetto, che Geppetto si dichiara padre ma è un padre col cuore di panna, non ha niente di normativo. Geppetto Pinocchio nelle prime pagine del libro lo fa arrestare, gli dà un calcio in bocca, gli toglie la parruca, lo prende in giro in tre pagine di libro, si brucia i piedi, Geppetto lo vuole punire, e dice, eh, morri in mani con i piedi bruciati, Pinocchio si mette a piangere, lui si commuove e gli devi far subito. Geppetto è come quei padri che dicono, eh, hai preso un brutto voto, mo stai un mese a casa, guai a te se esci, guarda che... Ma domani c'era una festa in spiaggia, una festa in spiaggia, torna presto però che non ce la puoi fare, no, farti bene anche lei, capito? No, non ce la fai. Pinocchio all'inizio del libro, all'inizio del libro, uccide il grillo parlante, già c'è Geppetto come padre che è una papamolla, non ha incontrato ancora la madre, la fata che puoi fare da madre, ha come uccide il grillo parlante che la voce della coscienza è spacciato. Chi adesso farebbe molta fatica ad alzarsi, per esempio, dovrebbe ragionare sul grillo parlante che ha avuto. Qualcuno non ce la farebbe alzarsi perché tutta la vita ha avuto un grillo parlante che gli diceva, fermi, cosa fai? No, mettiti bene, stai... Ma scusate, siete usciti per venire qua, avete lasciato la casa vuota, alcuni di voi prima di uscire, no, devo mettere a posto, non si sa mai, venga qualcuno, i ladri vengono. Il tuo carattere, quanto è frutto di genetica e quanto è frutto dell'incontro con i tuoi genitori, in questo libro dico, in quel momento della tua vita, perché conta anche il momento in cui arrivi in famiglia. Perché uno mi dice, sì, ma allora perché mio fratello è diverso? Perché è nato in una famiglia diversa, mia sorella è stata primogenita per due anni e femmina, nasce femmina primogenita. Mio fratello nasce maschio che auguri ai figli maschi allora contava. Nasce fratello, io nasco fratello di una femmina e di un maschio. Terzo, conta, certo che conta, ma scusate, al primo figlio avete fatto ottomila foto, il secondo ne ha due perché passava che ancora stavi fotografando il primo. Dice, gli ho educati allo stesso modo, ma che cosa? Primo figlio è arrivato, iiii, è nato. Secondo figlio dice, aspetto un altro bambino, un altro. Ma perché se ne possono fare più di uno? Non lo sapevo. Carattere deriva dal greco e significa impronta. Significa che qualcuno quella impronta l'ha lasciata. È vera una cosa, è vero che l'impronta noi la lasciamo sul terreno. Non so se è chiaro. E quindi probabilmente anche nell'educazione, nella personalità di tutti noi, conta anche il terreno. Quello che non sapremo mai, la biologia, la psicologia, la filosofia, non capirà mai. È quanto è importante il terreno. Ma quello che sappiamo è quanto è importante quello che fa, come dire, il piede che mettiamo noi, quello lo sappiamo. L'ansia che hai. Il bambino ti fa cinque domande. La prima domanda che ti fa il bambino è che desiderio hai per me? Che desiderio hai per me? Te la fa dal giorno che scopri di essere in attesa. Hai desiderio per me? È venuta una madre in consulenza, una splendida coppia. Però questa madre era molto in difficoltà, molto legata a questo bambino. Il bambino con gravissime crisi d'ansia. Non riuscivo a trovare la chiave. Sapete, ormai quando hai l'esperienza che ho io, difficilmente ti sfugge il nodo della questione, che poi riesci a sciogliere un altro conto. Questa signora era veramente in grande difficoltà. Faccio tutta la chiacchierata, parliamo per un quarto ora, venti minuti, ma non avevo fatto le domande base, quelle che bisogna sempre fare, in quel caso sbagliando non le avevo fatte. E chiedo alla signora, ma avete avuto degli aborti prima che arrivasse lui? Tre. Il terzo a cinque mesi. Dici che quando nasce il bambino il tuo desiderio è diverso. Che desiderio hai? Che desiderio mi attende? Ma non solo quando è bambino, non solo quando è in pancia. Il giorno che nasce, quando è adolescente, hai ancora desiderio per lui. Le domande di desiderio sono centrali. Spesso le domande di desiderio sono indicate anche dai nomi che scegli per tuo figlio. Ho dato una signora e gli ho detto, come si chiama il bambino? Gabriele. Gli ho detto, bello, nella zona mia è di moda. Sì, ma non perché è di moda. E gli ho detto, perché? Si chiama Gabriele come l'arcangelo. Io sono tanti anni. Con tre R l'ha detto, come l'arcangelo. L'altra sera era in attesa. Gli ho detto, come lo chiamate? È femmina? Gli ho detto, come l'ha chiamata? La chiamiamo Diletta. E gli ho detto, ah, Diletta, come per la giornalista bella di Sky. Gli ho detto, bella. Sì, ma non per la giornalista di Sky. Gli ho detto, no, e perché? No, no, la chiamiamo Diletta perché Diletta significa la prescelta. No, il problema non è che l'hai scelta, è che glielo dici tutta la vita. Tu ti chiami Diletta perché sei la prescelta. L'unta del sì. Ma cos'è? Ma immaginati la pressione su questa ragazzina che o viene con attacchi d'ansia, o viene con un delirio di onnipotenza. Dice, un dici anni, sei un po' presuntuosa. E ci credo. L'hai chiamata la prescelta. Ascolta, piuttosto chiamatelo l'avanzo. Quello che c'è venuto, c'è venuto. Ma che conta? Sì, sì, la prescelta. Un amico mi ha detto, no, vabbè, una signora troppo bella, raccontavo come spesso capita, prima faccio i racconti, poi scrivo i libri. Quindi raccontavo questa cosa prima di scrivere i libri. Infatti l'ho messa in libri. Una signora viene e mi ha detto, lo sa come l'ho chiamato io? Mi ha detto, no, mi dica, l'ho chiamato come il mio primo amore. Mi ha detto, no, non è mio marito, è mio prima amore. Mi ha detto, ma perché? Ehi, ci pensi, vedrà che ci arriva. Ci sono arrivato un altro giorno. Sai perché? Perché ha detto, se mi confondo, gli dico che sto chiamando il figlio, capito? Cioè, tu immaginati la diavoleria. Un amico sta aspettando il terzo figlio e gli dico, come lo chiami? Mi dico, come il figlio della vicina? Gli dico, ah, un bambino vivace. Mi dico, no, no, dorme sempre. Beati loro. No, sono due anni che non dormo. In fondo, pensateci, la cosa che ci portiamo dietro per tutta la vita, che è il nostro nome di battesimo, parla di un pensiero che qualcuno ha fatto su di noi prima che noi arrivassimo. A noi tutta una vita per riempirlo anche di altri significati. Ma quello è un desiderio. Chi mi conosce sa quanto io ami lavorare con gli insegnanti. Ami lavorare nella scuola e stimi gli insegnanti perché in un paese dove la scuola è massacrata, moltissimi insegnanti sono ancora lì a tenere alta la bandiera. Però in questo libro mi è capitato di incontrare un insegnante di sostegno, cioè scusate, no, entravo in una scuola e mi viene incontro un insegnante di classe che era con una signora e chiacchieravano. Vedevo la signora infastidita e mi ha detto, dottore, glielo dica anche lei, glielo dica anche lei, la signora ha un bambino autistico. E ieri cosa è successo? Che non c'era la sua insegnante, l'insegnante del bambino autistico, perché lei non è il suo insegnante, solo quella di sostegno, l'insegnante del bambino autistico. E quindi glielo ho detto, signora, quando non c'è la sua insegnante, lo tenga a casa. Beh, mi ha detto, non perdiamo tempo, noi, noi e lui. Nel libro dico, pensate a una parolaccia grande a piacere. Non c'è scusa in questo caso, semplicemente tu non hai desideri. Un padre mi ha scritto una lettera bellissima. Mi ha scritto, sai, dottore, io ho passato l'infanzia delle mie ragazze a lavorare. Grande carriera professionale, una persona con grande disponibilità economica, una grandissima carriera. Adesso la maggiore ha un grave disturbo psicologico. Lui aveva partecipato a una mia conferenza e mi ha detto, sa che penso che lei abbia centrato il punto stasera. La verità è che io non avevo desiderio di paternità. Cioè io trovavo gratificante un avanzo di carriera professionale, un aumento economico. Non ho mai trovato gratificante vedere le mie figlie su un palco, in prima elementare, a fare la recita di fine anno. Non avevo desiderio. La questione è lì, come per tutte le domande. Il problema è quando non trovi la misura con tuo figlio. quel padre mi diceva, io trovavo gratificante solo quando avevo una promozione. Non ho mai trovato gratificante invece vedere le mie figlie essere bambini. Alla fine della lettera diceva una cosa ancora più bella. Diceva, lo sa dottore, in realtà io non avevo neanche il desiderio di mia moglie. E non parlo del desiderio fisico. Parlo del desiderio di essere marito. Del desiderio di essere padre. Un'altra delle domande che i bambini fanno dal momento, da prima del loro arrivo, per tutti i giorni del nostro rapporto con loro, è la domanda di legame. Sapete, lavorando con famiglie che hanno perso bambini in piccoli, un giorno rientravo in macchina e una signora, che mi ha autorizzato a raccontarlo, che ha perso una figlia di 17 anni, mi ha detto, dottore, mi sta capitando in questi giorni una cosa troppo brutta. Vedo i necrologi, vedo persone di 80 anni decedute e vedo le frasi che scrivono i familiari e mi arrabbio. Lei diceva, lo so che sbaglio io, lo so che sbaglio io, dottore, non dovrei arrabbiarmi, no? Ho pianto anch'io mia madre. Però pensare a mia figlia, morte di 17 anni, è che tutti i lamenti della morte di una persona, no? Che ha finito il suo ciclo di vita mi fa arrabbiare. È un pensiero assurdo, mi diceva, ma so che lei lo può capire. Tornavo a casa in macchina, dopo quella facciamo dei gruppi di dialogo con queste famiglie. Io ho pensato al ciclo della vita. Ho pensato a un bambino che nasce e che ha bisogno che tu lo tenga stretto. Ma non troppo stretto. Se no pensa solo che il mondo è un posto pericoloso, adesso vi racconto. Penso a un bambino che ha bisogno che lo molli, come cresce a scuola elementare, che vado ad esplorare. Penso a un adolescente che ha bisogno di mangiarselo il mondo. E poi penso che se sei fortunato diventi adulto e ci sono ancora i tuoi genitori. E forse tocca a te. Io allora ho scritto una filastroca. L'ho messa in questo libro e l'ho intitolata Filastroca di una vita. Ti vi leggo per introdurre la domanda di Regano. Dammi la mano. Dammi la mano, dammela bene. Tienimi forte e non farmi cadere. Ma tienimi piano per non farmi pensare che al mondo io debba soltanto tremare. Dammi la mano, dammela bene. Tienimi forte e non farmi cadere. Ma lasciami un poco per farmi cercare nel mondo qualcosa che anch'io possa amare. Dammi la mano, dammela bene. Tienimi forte e non farmi cadere. Ma lascia la mano che devo provare alla vita e a me stesso che il mondo è mio adesso. Dammi la mano, dammela bene. Tienimi forte e non farmi cadere. E salutami ora con quella tua mano che mi ha stretto, lasciato e portato lontano. Saluta tuo figlio che dal giro tondo è cresciuto e lontano ora va per il mondo. Va per la sua via, va per la sua vita, sentendo per sempre quelle tue dita che l'hanno tenuto e che l'hanno lasciato e che ora una lacrima gli hanno asciugato. Dammi la mano, dammela bene. Ti tengo forte e non ti lascio cadere. Tu poggiati a me. Sostengo i tuoi anni che con te e la tua vita sono stati tirani. Sostengo il tuo sguardo che ormai non conosce, tuo figlio, il suo nome, né la sua voce. Quel figlio cercato, voluto, cullato, quel figlio cresciuto e mai abbandonato. Quel figlio tenuto e lasciato andare che ora è al tuo fianco per non farti tremare. Mi guardi confuso con sguardo ormai perso. Non sai più chi sono, ma ascolta me adesso. Io invece so bene, tu chiedi e sei ancora. La rabbia, le urla sono cose che ora non hanno più un senso e non hanno più un suono, perché grazie a te se io sono quel che sono. per questo lo so, che ora devo mollare, che devo permetterti di potertene andare, che devo lasciarla, quella tua mano che mi teneva e lasciava per andare lontano. Sono grato del tempo trascorso insieme. Ormai sono un uomo che nulla più teme, per quella tua mano che non mi ha fatto cadere, per questa mia mano che ti lascia andare. Una delle domande che il bambino fa è la domanda di legame. A cosa servono le domande di legame? Quando un bambino nasce, dovete sapere che... dovete sapere. Lo sapete. Quando un bambino nasce, non è un bambino, è un mammifero. Guardate che questa differenza è importante. Il bambino diventa bambino attraverso l'educazione. Attraverso l'educazione tu cerchi di convincerlo che non conviene vivere come gli animali, mangiando e riproducendosi, ma che conviene andare a scuola. L'educazione è questa. Voi cercate di convincere che rimanere nudi tutto il giorno come vorrebbero fare loro. No, meglio metterci una bella camicetta. Quando un bambino nasce pensa di essere Dio, il neonato pensa di essere Dio, non sa neanche che tu esisti. E pensa, mi, ho fame. E gli arriva una tetta piena di latte. E lui pensa, mi, che potente che sono. Cioè, devo essere tipo un supereroe. Tipo... Poi pensa, mi, c'è un caldo quest'estate, la prima estate, ma c'è un caldo. E gli va via la coperta. E sono un supereroe e si cura. Poi lui pensa un giorno, mi, c'ho fame. E si sente dire, eh, mo' aspetti. Iiii. Il bambino diventa bambino, diventa individuo quando tu cominci a dirgli, eh, mo' aspetti. Lui si rende conto che lui esiste, diventa individuo. E che tu esisti quando cominci a dirgli, dare forma, cominci a farlo rinunciare al principio del piacere. Tutti noi ci giochiamo su questi due enormi principi. Il principio del piacere e il principio del dovere. Tutta la vita, non solo i bambini, eh. Tutta la vita. Il vostro matrimonio è piacere o dovere? Facciamo un altro esempio. Ma siete rimasti impietritti. E' piacere. Chi l'ha detto? Ciao, amore. E' piacere. Ciao, amore. Quanti anni hai? Nove. Vai a scuola? O lavori già? Vai a scuola. Ascolta, vai a scuola per piacere o per dovere? Sì, sei a me. Abbiamo già fallito. Aspetta, aiutaci, salvaci. Sei di qua? Ascolta, vai in questa scuola? Ah, meno male. No, perché sennò eravamo troppo vicini. Ascolta, i compiti li fai per piacere o per dovere? Ti lavi per piacere o per dovere? La pizza, aspetta, la pizza la mangi per piacere o per dovere? Che cos'è l'educazione? E' questo. E' questo. E' il tentativo. Non ho sentito il nome della bambina. Gloria. E' il tentativo di fare in modo che Gloria faccia queste cose non solo per dovere. E non le farà, speriamo, solo per dovere. Non lo interrogo più. Non le faccia solo per dovere. Ma anche per piacere. Che a scuola vada anche per piacere. Però il primo contatto col mondo il bambino ce l'ha con l'abbraccio. Se siamo qua stasera è perché siamo tutti dei sopravvissuti. Noi tutti al momento della nascita siamo dei naufraghi. Ti abbiamo bisogno che qualcuno ci soccorra. Permettetemi questo gesto. Perché questo gesto ci soccorra e ci porti dal ventre materno al sene materno. Non fosse quella madre magari un'altra o un padre. Ma c'è bisogno che qualcuno ci soccorra, ci salvi. Siamo tutti dei salvati. Noi non ci salviamo da soli. Abbiamo bisogno dell'abbraccio di qualcuno per stare nel mondo. Ma quell'abbraccio, quell'abbraccio di qualcuno, ci racconta anche del mondo nel quale stiamo vivendo. Mi spiego così. Facciamo che nasci in Siria in questo momento purtroppo, un luogo tragico dove nasce. L'abbraccio di tua madre e di tuo padre come sarà? Un abbraccio spaventato, preoccupato, attento, vieni qua. Quell'abbraccio ansioso dei genitori possiamo dire che è sbagliato? Assolutamente no. Perché se io esco e ci sono cecchini, bombe, guerra, fame, quell'abbraccio mi salva la vita. Non so se è chiaro. Ma se io do lo stesso abbraccio e vivi ad Alghero, dove il massimo che ti può capitare è un'insolazione, il bambino girerà con la convinzione di essere in zona di guerra. Ha paura di tutto. Ma quella paura come l'ha presa? L'ha presa dal tuo abbraccio spaventato. Non so se il rischio è che quell'abbraccio a tuo figlio gli racconta un mondo. E' venuta una coppia e mi ha detto Dottore, lei è contrario a far dormire i bambini nel lettone. Dovevo iniziare un corso per bambini 0-6 anni? E questa coppia è molto giovane. Mi ha detto lei è contrario, vero? Gli ha detto, ascoltate, vi faccio io due domande. La prima è se avete un bambino nel lettone. Gli ha detto, sì, ebbè? Due. No, siccome stiamo aspettando il terzo, non sappiamo se mettere la prolunga. Gli ha detto, la seconda è chi ve l'ha detto. Gli ha detto, c'era una nostra amica che dice che lei gli ha detto di mettere il bambino fuori dal lettone. Gli ha detto, guarda, io non sono contrario, ne parleremo nel reading che faremo qui a Toro. Io non sono contrario a far dormire i bambini nel lettone. Nella mia esperienza, ci sono stati, nella mia esperienza professionale, ho conosciuto ragazzi e ragazze che hanno dormito nel lettone dei genitori per tanto tempo da bambini. sono venuti su benissimo, senza nessun problema, nessuna difficoltà. Ho fatto i picchetti negli ospedali per impedire che il bambino venisse tolto ai genitori immediatamente, no, dopo il parte. Un'assurdità, un controsenso, contro la natura e contro la cultura. Questo io ne sono fermamente convinto. Quindi, per la mia esperienza, poi arriva a un certo punto, se ne vanno, alcuni se ne vanno senza problemi. Arriva la fidanzata, sono 18 anni, capito? E ci parte la battuta, senza difficoltà. Ma qual è la mia esperienza? Nella mia esperienza, spesso, quel bambino nel lettone non è causa di un problema, ma è il racconto di un problema. Cioè, quel letto occupato, alle volte parla di uno spazio che è meglio che non rimanga libero. Perché se rimane libero dobbiamo affrontare qualcosa che è fuori quel lettone, ma il problema non è quel lettone. La stessa cosa con l'allattamento. Oggi c'è un bellissimo movimento per l'allattamento al seno, e per l'allattamento al seno prolungato. Stupendo. Ci sono madri che danno il seno anche fino a 5 anni, 6 anni, fosse solo per la coccola. In sé non è un problema. A meno che non ci sia un problema che ti sta portando a farlo. Per esempio, un bambino non è venuto al mondo per realizzare i progetti che a te sono rimasti dispari, ma sicuramente, sono rimasti irrealizzati, ma sicuramente non è venuto al mondo neanche per curare le ferite tue. Perché mi è capitato di accompagnare una coppia, dove era evidente che a lei, a lei in quel caso, era mancato l'abbraccio materno. Continuava ad essere naufraga nel mondo. Arriva il bambino, ti attacchi al bambino per curare la tua ferita d'attaccamento. Ma il bambino non è venuto a curare le tue ferite, no? Allora lì sì è necessario uscire dal lettone, ma non perché, semplicemente perché il lettone è uno dei modi che il bambino ha trovato per raccontarsi che qualcosa non sta funzionando. Allora lì sì che bisogna smettere di allattare, perché quell'allattamento non ha più niente a che vedere con la cura, ma a che vedere con la tua ferita. Anche quella tetta occupata parla di una tetta che non rimane... Mi sto buttando in un gene praio. Beh, però sì, dai, a un certo punto uno dovrebbe anche arrivare e dire, amore di babbo, e... Ma è il gioco di babbo. Bisognerebbe anche rioccuparlo, quello spazio, a un certo punto. La domanda di legame è questa. Alla domanda di legame, la cosa più difficile nella domanda di legame è anche sapere che non bisogna tenerli troppo, o troppo poco, ma non bisogna tenerli troppo per fare in modo che loro non siano solo tuoi figli. Un'altra domanda che il bambino ti fa è la domanda di identità. Ti chiede, prima che io arrivassi, tu avevi tante maschere. Prima che io nascessi tu eri amica, amante, giocatore di calcio il mercoledì sera, insomma, tutto quello che eri prima della paternità e della maternità. Da oggi ci sono io. Quanto sei disposto a mettere in discussione quelle maschere per fare spazio a me? In discussione, non rinunciare. Anche in questo caso io ho due risposte sbagliate che sono estreme. persone che rinunciano totalmente alla propria identità per diventare solo padri o madri. Non si fa mai un favore ai figli. Quando ero bambino mia mamma mi diceva per te ho rinunciato a tutto. Mi sarebbe tanto piaciuto studiare. Ho rinunciato anche a un caffè. Di volta che mamma viene a casa, per fortuna ancora arriva, metto su la caffettiera. No, ma ascolta, ma fatti una vita tua. Il problema può essere anche opposto. Quanto sei disposto a mettere in discussione le tue identità precedenti? Per nulla. Non sono disposto a giocare. Ho venuto a una madre, ragazza madre, mi raccontava proprio questo. Per tutta la consulenza un figlio di 15 anni e lei, praticamente una donna di 35 anni, una bella signora, per tutta la consulenza mi diceva ma io sono anche giovane, mi devo anche divertire. Assolutamente sì. Necessario che tuo figlio non ti veda solo come padre e come madre. ma su quell'anche noi costruiamo il legame con il figlio. Quell'anche fa tutta la differenza di questo mondo. L'abbraccio serve, ma dobbiamo anche saperlo misurare nel tempo. Un figlio adolescente ti chiede di abbracciarlo diversamente. Un figlio che entra in adolescenza chiede di ripensarti, ripensare a quell'abbraccio, ripensare a te stesso. L'ultimo capitolo del libro parlo del tavolo di famiglia. Dico che quando noi nasciamo ci sediamo su un tavolo di famiglia. Quando io sono nato mi sono seduto sul tavolo della famiglia Brian. Per quello i figli sono così diversi. Perché ogni figlio si siede su un tavolo diverso. Quando io mi sono seduto a tavola, c'erano dei posti già segnati. A capotavola c'era Babbo, su un trono, con lo scettro. Non sto esagerando. La domanda è? Gloria, chi c'è a capotavola a casa tua? Fermi, fermi, fermi. Ascolta, potete andare tutti via, rimangono solo loro. Gloria, siete i genitori? Non vedo. Sei la mamma? Coraggio. Coraggio. Ascolta. Gloria, chi comanda a casa tua? Betta. Insieme o uno un po' di più? Sì. Grande. Non siete come quella coppia. È venuta una coppia, marito e moglie, e parlava lei. Se fai questo lavoro ha imparato a fare l'ascolto attivo, quindi interagivo. Dopo 20 minuti sono passato dall'ascolto attivo agli occhi di vetro. Al quarantesimo minuto ho sterzato dagli occhi di vetro. È presente quei cagnolini che stanno dietro le macchine, che con la testa fanno... Stronato, un pugile. Volevo gettare la spugna. Poi mi viene l'insai, l'illuminazione. Dico, signora, c'ha sette? Sì. Gli do il bicchiere d'acqua, mentre beve, guardo lui, mischino, era venuto, marito. Gli ho detto, vuole aggiungere qualcosa. Lui è rimasto spiazzato, era vent'anni che non parlava. Chi? Cioè, si è guardato intorno, come dire, ma chi? Mischino. E lei, come stavo dando parola a lui, ha rimesso giù il bicchiere. Ehi, glielo dica, anche a casa, sempre zitta, ha continuato altri dieci minuti. Per fortuna è passata l'ora. Gli ho detto, eh, no, mi dispiace, dovete andare via. E lei ha detto, torniamo. No, 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 basta una consulenza. Erano lì perché la figlia, 17 anni, aveva un po' di crisi di autostima. Non ci credo. Sapete, il tavolo è un fatto di spazi. Se tu occupi tre quarti di tavolo, è difficile che gli altri poi si facciano autostima, eh? Soprattutto se è femmina, femmina, maschio, maschio. Se sei così ingombrante. Viene la figlia. Le spiego, questa cosa è il tavolo di famiglia. Dico che nel tavolo di famiglia ci sono, che nelle famiglie ci sono due luoghi sacri. Il tavolo di famiglia è il letto coniugale. Il letto coniugale, insomma, saltiamo. No, però è sacro anche quello, eh? Il tavolo di famiglia è l'altro luogo sacro, dove ci sono dei posti assegnanti. Simbolicamente, ma anche concretamente. Per esempio, chi c'è a capotavola? Intendendo il capotavola è l'uomo di chi guida, no? Ecco, quello che io dico è che a capotavola non ci deve stare un bambino. Ma non materialmente, come nel caso di Gloria. Che invece poi quando gli chiedo chi comanda, tra virgolette, mi dice i genitori. Quindi fisicamente puoi stare a capotavola, ma io dico che un bambino non deve stare a capotavola. Nel senso che non deve guidare lui. La vita per un bambino è già troppo complessa. Perché lui debba scegliere anche il menù. Che programma guardare in tv. Che cosa, se uscire e se non uscire. Che cosa mettersi tutti i giorni. Ehi, lasciamogli fare il bambino. Ai nostri tempi era più facile. Ai nostri tempi c'era il tavolo dei bambini, il tavolo degli adulti. Gli spazi adulti, gli spazi bambini. Ma anche perché eravamo in tanti, quindi tutti nel letto. Spiego tutto questo a quella ragazza di 17 anni. Gli ho detto, sai, funziona così. Funziona che c'è il capotavola. Gli spiego, poi ci sono i posti dei figli. E gli ho detto, a casa tua chi c'è il capotavola? Ma glielo devo anche dire. Mia mamma, la regina. Gli ho detto, e il tavolo com'è? Gli ho detto, e voi? E noi tutti sparpagliati. Gli ho detto, vabbè, sparpagliati, ma siete lì? Anche voi, sì? Gli ho detto, ma lo sa com'è il tavolo a casa nostra? Gli ho detto, no, com'è? È triangolare. Mamma è nella parte, nella base, la parte larga. E noi tutti stretti, stretti qua. Gli ho detto, lo sa dove sono io? Gli ho detto, purtroppo le ho immagini. A capotavola. Quella mi buca qua da una vita. Nel tavolo di famiglia c'è sempre anche una scritta, che sono i valori di famiglia. Ma nel tavolo di famiglia ci sono anche i racconti. I racconti che noi facciamo ai nostri figli parlano dei valori nei quali crediamo. Qualche tempo fa, io, voi sapete, molti di voi conoscono la mia storia, io ho messo una vita a diplomarmi, ho fatto una vita un po' dissoluta da giovane. E ho riflettuto su questo fatto, del perché una famiglia con certi valori, poi abbia figli che non sposano quei valori. O che magari li sposano in ritardo. Perché quei valori ci sono in quella famiglia. E la riflessione che ho fatto è che non basta averli i valori, bisogna anche vedere come li scrivi. Sul tavolo di famiglia, dico io, puoi scrivere i valori in tre modi. Li puoi scrivere sulle briciole. Se hai scritto i valori sulle briciole, ogni battito di tovaglia vanno via. Mi hanno chiamato per fare un corso nella scuola, in una scuola i ragazzi dell'ultimo anno prendevano la patente. E mi hanno detto, deve venire a parlare ai ragazzi dell'importanza delle regole, perché poi prendono la patente e non rispettano le regole della strada. Gli ho detto, ma non c'è bisogno di fare un corso così per i ragazzi. I ragazzi a 18 anni, l'hanno già fatta la scuola guida. Sono rimasti per 18 anni in macchina con te. L'hanno visto come si guida. Il valore sulle bricio. Se guidi, mangiando il panino, rispondendo al cellulare, giri con il gomito. Tuo figlio l'ha già visto. Andavo al mare a spiare questa coppia di genitori. Andavo al mare a spiare i genitori. Stavo entrando nella marina di Torre Grande e davanti alla mia macchina c'era una macchina, padre e madre, dietro un bambino sui 10 anni. Stiamo entrando, zona come può essere il porto qua, quindi entri piano piano, sai. Eravamo fermi. E un tizio spunta un po' da uno stop alla macchina che mi precedeva, quella che ho il bambino dietro. Questi deviano, ma non è successo nulla. Eravamo fermi. Questi deviano. Però l'autista della macchina, quello che aveva il bambino dietro, non l'ha presa benissimo. Ma deve essere che li conosceva quelli. Perché li ha ricordato... Conosceva la famiglia. La cosa bella era guardare il bambino dietro. Il bambino dietro, che mentre... Amore! Non picchiate i cani. Picchiate i bambini, ma non i cani. Mentre... La cosa bella era guardare il bambino mentre il padre insultava quell'altro. Mentre il padre insultava quell'altro, il bambino guardava il tizio e gli faceva... Mmm... Fatto bene. Andiamo avanti. Venditore ambulante, parcheggio a pagamento, segnala un parcheggio. Il tizio sta andando verso il venditore ambulante, sbucca un altro e gli ruba il parcheggio. Però se ne libera un altro subito dopo e il tizio parcheggia. Perché già, ma sai, il ragazzo, il venditore ambulante, dice io il mio lavoro l'ho fatto e va per vendere qualcosa, no? Lui scende col figlio a fianco e ha fatto a questo ragazzo extracomunitario di colore gli ha fatto tutto un discorso sull'integrazione, no? Sull'accoglienza della diversità. Sembrava Salvini sbronzo praticamente. E cosa bella era che a mente lui faceva questo discorso, sempre il bambino a fianco. Arrivano in spiaggia, marito, moglie e bambino, e io dietro perché ci scrivo un libro su questi. Arrivano in spiaggia, lei doveva piantare l'ombrellone, dove... No, lui doveva piantare l'ombrellone. Dove lo doveva piantare lui l'ombrellone? Lo doveva piantare dove diceva lei, ma lei non gli diceva dove voleva che lo piantasse. Quindi lui girava con questo palo in spiaggia, no? Cioè, lo vuoi mettere qui? C'è un deficit. Lo vuoi mettere lì? Mettiti lì, se lo vuoi... La gente li guardava, dice questo me lo pianta nel petto, sta a vedere. Insomma, alla fine piantano questo ombrellone, il bambino come si sistema, non vede dei ragazzini, insomma, come adesso che giocavano con la palla, dice, ma boh, vado a giocare. Aspetta, vieni qua. Mi raccomando educazione. No, sei a cavallo. Fai tranquillo, un bambino... Eeeh, un lord. Il valore sulle brecce. Non si educa a parole. Il valore sulla pietra. Credi talmente tanto in quel valore. Mi ha chiamato un vescovo. Un vescovo, insomma, di una dioce di sardo. Io non sono credente, ma lavoro molto con le parrocchie, con i vescovi. Questo vescovo gli ha detto, guardi che io non credo in Dio. Mi ha chiamato per lavorare nella sua parrocchia. Gli ha detto, guardi che io non credo in Dio. E lui mi ha detto, no, vabbè, ma Dio non è permaloso. Fantastica. Mi ha chiamato e mi ha detto, te lo dico solo a te in riservatezza. Non dirlo a nessuno, infatti lo sto raccontando a tutti. Mi ha detto, io voglio che tu ci aiuti con i ragazzi, con i bambini che fanno il catechismo. Ovviamente formando i catechisti, i sacerdoti. Mi ha detto, sai qual è la verità? La verità è che io penso che noi li perdiamo, i ragazzi, quando poi crescono. Perché noi siamo, pensate cosa mi ha detto questo, perché noi siamo troppo cattolici alle volte per insegnare i valori di Cristo. Pensate che enormità. Qualche volta si può credere talmente nel valore della cultura che tuo figlio odia, la scuola, i libri e tutto quanto il resto. E' il valore scritto sulla pietra. Quello che per esempio ho subito io. Io in prima media traducevo dal latino. Che è la versione di quinta ginnassa. In seconda media ho iniziato a studiare il greco. Perché a casa mia la cultura. Babbo è del 30. I figli, i fratelli sono tutti nati dal 26 al 32. Cinque maschi e una femmina. Tutti i diplomati, anche la femmina e un laureato. Che noi cugini ebraina non ci laureassimo. Sapete che sono gli unici cugini ebraina che ci sono laureati. Quelli che come me hanno preso quella pietra, l'hanno fatta a pezzi e si sono liberati. Il valore? Secondo me nel tavolo di famiglia va scritto Mi è successa una cosa, ho ristrutturato casa. Ho chiamato il falegname per fare gli impissi indegni o vero. Ad agosto. A settembre arrivano le prime piogge e mi piove in casa. Richiamo a sto deficiente e mi dice Non vedi che piove dentro casa? Un caro amico, no? Te lo prendo in giro. Io gli ho detto Non vedi che piove dentro casa? Ma che faregname sei? Mi ha detto No, ma quello non è colpa mia. E' una colpa mia. Le hai fatti tutti in fissi. No, ma quello è il legno che è vivo. Io gli ho detto Ma se l'hai piallato, cosa aveva? Ma no, è il legno materiale vivo. Quello col caldo, col freddo. Si stringe, si allarga. E allora penso che i valori sul tavolo di famiglia vadano scritti sull'enno. Devono allargarsi e stringersi a seconda del momento, a seconda del clima, a seconda del figlio, a seconda di te e del tuo momento di vita. Cioè, dieci e venti. Non mi chiacchierò. Volevo lasciarvi affrontando, insomma, una... Aspettate che lo trovo. leggendovi alcuni brani del... sapete perché facendo questo mestiere in giro per l'Italia mi capita sempre più spesso che legittimamente qualcuno mi chieda Ma lei che fa tanto il grillo parlante con i figli degli altri? Di figli? Ne ha! Inevitabilmente spesso qualcuno mi chiede questa cosa E come fai a dirgli che nella vita c'è anche chi un figlio lo aveva tanto sognato? Sognato in un sogno reale di quelli che si fanno la notte con gli occhi chiusi In un sogno sempre uguale a se stesso Sognava sempre una bambina La sognava sempre tra le sue braccia Sempre col profumo di borotaico E sempre col cuore a scoppiare nel petto per la gioia Ora no Ora non la sogna più Ora sente il suo tempo passato e con lui quell'antico desiderio di paternità Ma quel sogno a quell'uomo un poco gli manca Gli manca per quella gioia reale totale che gli regalava stringere tra le braccia quelle serine e sottovoce sussurrarle tranquille Mi prendo io cura di te Gli manca anche per la sorgente malinconia del risveglio Quando si accorgeva che era tutto un sogno il solito sogno Che non c'era accanto a lui il profumo di borotaico Non c'era la bambina Non c'era qualcuno di cui prendersi cura Quello risveglio un poco gli manca anche perché lo costringeva a fare i conti con l'uomo che era diventato senza quella paternità Non ha rimpianti ora quell'uomo È un uomo felice Lui come i tanti Lui è felice per la vita per quello che la vita gli sta regalando Lui come i tanti che per scelta o per destino i genitori non lo sono diventati e che lo sanno bene che la genitorialità non è una condizione della vita ma una possibilità e alle volte purtroppo solo un sogno mancato Oggi quell'uomo parla a genitore parla a figli parla di figli e parla di genitori Quello che pensa è che se è utile a qualcuno Lui è anche per quel sogno mancato per quella ferita che fa sì che parli per tutta la vita da figlio perché solo figlio è stato e così facendo forse può aiutare i genitori che incontra a ragionare sui loro di figli e sui figli che sono stati E comunque tra i tanti che gli fanno la domanda a quell'uomo da sempre ha preferito quelli che ma cosa domandano ma non lo vedono che la risposta è nei suoi occhi quando parla dei bambini e a tutti quanti quell'uomo quest'uomo auguro la buona educazione grazie 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 ma ma non sarei io se vi lasciassi con una notta così triste quindi quindi ho visto ho scritto un libro ve l'ho detto che ho scritto un libro che mi hanno detto che inveni vabbè ho scritto un libro è l'ultimo libro e mentre lo scrivevo mi rendevo conto che purtroppo questo non è un libro per tutti mi dispiace ho visto che qualcuno l'ha già comprato ho già firmato alcune dediche ma purtroppo questo non è un libro per tutti e quindi sapendo che siete genitori ho pensato magari lo comprano e non è un libro per loro e se sono genitori soldi ne hanno pochi o magari lo comprano lo leggono e se sono genitori hanno ancora meno tempo che soldi quindi non volendo in nessun modo che voi vi sbagliaste con l'acquisto ho fatto una cosa ho messo un test all'inizio di questo libro ho messo un test e voi dovete se l'ho comprato se l'avete già comprato prima di poter dire che è vostro definitivamente dovete passare il test se passate se passate il test potete tenere il libro se non lo passate lo potete restituire sia alla libreria che in qualunque altra libreria del mondo cioè voi lo riportate se non passate il test e vi viene sostituito con un libro maggiormente utile per i genitori si intitola l'ho riportato qui comunque se non lo ricordate il titolo si intitola i mille e uno modi per cucinare i molluschi della Groellania che può sempre servire quindi non volendo in nessun modo farvi perdere tempo ho messo questo test non lo facciamo in tutto vi leggo giusto alcune voci così vi rendete conto se potete comprarlo o meno già da subito quindi questo è il libro per voi se se siete soliti osservare con attenzione gli altri genitori intenti ad educare e nel notare quanto le loro modalità educative siano differenti dalle vostre oscillate tra il giudicante mamma mia che disastro quei bambini da grandi si drogheranno di sicuro ed il colpevolizzante per voi mamma mia sono un disastro i miei figli da grandi si drogheranno di sicuro questo questo è il libro per voi aspetta questo è il libro per voi se arriendo a casa di vostri figli adolescenti aspettate che si siedano a tavola per mangiare e appena seduti siete soliti domandare e com'è andata a scuola e da loro lapidario bene insistete con il sempreverde e che cosa avete fatto e da loro mi sa che l'avete passato e da loro tombare niente li lasciate finalmente mangiare pare che nelle famiglie tutta questa tiritera abbia sostituito il più classico buon appetito questo è il libro per voi se al supermercato durante l'ennesimo rumoroso foicloristico capriccio di vostro figlio lo avete guardato avete stretto le labbra e sussurrato eeeh non la finisco neanche eeeh ma già ci vediamo a casa i mollusti dovranno aspettare questo è il libro per voi se rientro a casa dei vostri figli più grandi siete soliti chiamarli a voi non per chiedergli un improbabile bacio ma per annusarsi riuscendo a distinguere nitidamente droghe alcol fumo sesso e rispettive quantità che dovrebbero assumervi a rischi di parma di parma per quanto siete bravi ma a dire il vero a dire il vero questo è il libro per voi anche se se continuate a ripetere a vostro figlio con tutto quello che faccio per te ma siete in realtà ben consapevoli che non c'è nulla che voi possiate fare per lui che pareccia quanto lui ha fatto per voi venendo al mondo a dire il vero a dire il vero questo è il libro per voi anche se il vostro figlio vi dà ogni giorno un buon motivo per provare a diventare almeno un po' migliore questo è il libro per voi se pensate spesso che almeno una cosa buona nella vita l'avete fatta questo è il libro per voi se lavorate ogni giorno affinché il vostro figlio non possa mai pensare di meritarsi di doversi meritare il vostro amore perché quello è gratis quello è a priori quello è per sempre a dire il vero questo è il libro per voi se il primo e ultimo pensiero di ogni vostra giornata è il desiderio della sua felicità grazie è stato un piacere ciao grazie